intanto ciao lisa e grazie per l'intervista ciao grazie a te cominciamo con il fatto che quest'estate hai avuto serie di gare molto positive però giustamente io ti ho definita regina d'estate e tu hai detto sì però voglio essere regina d'inverno in qualche modo e comunque c'è stata la prima gara un test prima gara l'hai vinta come è andata come stai sei contenta di aver rotto il ghiaccio con questa prima vittoria se l'estate è andata molto bene dal punto di vista estivo di performance sono molto contenta di avere alzato il mio livello penso che rispetto all'anno scorso un po in più c'è quindi spero di dimostrarlo in questo inverno le gare in norvegia sono andate bene e sono contenta di aver ottenuto comunque un buon risultato anche se non sono al top della condizione ma è giusto che sia così penso che ci vogliono ancora un po di gare per entrare nel ritmo gare quindi comunque è stato un buon passo per me e sono soddisfatta tra le gare estive quella che a me ha colpito di più onestamente non è con la gravina perché ai campionati estivi di rupolding hai fatto la stessa gara che hai fatto due anni prima e hai abbassato il tempo quindi una gara di ski roll come uscì di fondo diciamo partenza intervalli è abbassato il tempo di quasi un minuto ti sei resa conto e le condizioni una diverse forse l'altra volta pioveva questa volta era forse meglio come condizione però comunque se abbassi così tanto vuol dire che hai fatto dei progressi si onestamente mi sono resa conto che sono andata forte però me l'hai fatto notare tu coltato al mio livello c'è il mio tempo di abbassato il mio tempo di un minuto quindi grazie per questo che mi ha dato un po di fiducia no sono comunque stata soddisfatta perché quelle gare erano arrivavano dopo un weekend in campionato valmartello nei campioni italiani con la neve con la neve era un periodo che abbiamo lavorato molto in intensità e quelle tre gare sono state molto faticose anche perché erano tre di seguito e quindi sono riuscita comunque a a fare un buon risultato e sono stata soddisfatta lo scorso anno hai avuto alcuni problemi fisici sono iniziati subito e che ha limitato un tipo di allenamento che piace la corsa invece questa stagione ha avuto via libera per fare quello che volevi sei stata meglio come vanno le cose no non sono stata proprio al top diciamo che i problemi ai tendini sono sempre molto delicati e quindi l'anno scorso ho avuto molti problemi non sono riuscito a correre per niente ci avrò fatto forse un'ora quest'anno poco di più perché sento ancora che non è al cento per cento la mia la mia gamba sinistra e quindi è tutto un po limitato appena sono un po più affaticata di gambe si fa subito sentire il tendine e quindi non vorrei non sono non ho voluto sforzare su una cosa che non è ancora guarita al cento per cento però non mi ha ostacolato perché ci sono tanti mezzi di allenamento che posso utilizzare per allenarmi ovviamente la parte diciamo più fisica sul fondo diciamo così sia che sia gli schirolla o soprattutto d'inverno con gli sci ne abbiamo parlato l'aspetto del poligono perché uno dice in fondo hai avuto una stagione con buone percentuali che magari si sono un po sporcate a fine stagione però dove puoi migliorare al poligono su cosa hai lavorato ma onestamente ci sono molti molte cose su cui puoi lavorare perché da fuori la gente vede che sparo bene e che non ho problemi però ci sono tanti alti e bassi durante una preparazione come avvengono nel nel fondo perché ci sono momenti in cui stai bene e momenti in cui stai un po un po meno e al tiro sono così quando stai meno bene sei meno lucido e ricorrono gli errori quindi ho cercato quest'estate di lavorare su quando non sono al cento per cento di focalizzare l'attenzione su su tutto il lavoro fatto bene così in modo che durante la stagione quando ci sono periodi un po più faticosi sono al cento per cento al poligono non so se spiegato bene ma comunque ci sono tante cose ho lavorato molto su voler essere avere differenti tiri cioè il tiro veloce il tiro individuale il tiro un po più controllato dipende poi dalla situazione perché alla fine in gara ti ritrovi in delle condizioni sempre diverse non spari sempre uguale perché è impossibile oppure puoi però è un rischio mi pare di capire che per te comunque vince la coppa del mondo come obiettivo sia forse in cima alla lista al di là del fatto che i mondiali siano in italia che può darti una grandissima visibilità come a dorotea il fatto di vincere una gara in italia però per quello che è successo l'anno scorso per il fatto che te la sei sentita quasi addosso quel pettorale e la coppa del mondo anche verso l'ultima settimana è così mi sbaglio ma sì sicuramente l'obiettivo c'è sempre alla fine è in cima alla mia lista però non è una cosa che dico sono ossessionata ovviamente io ci tengo a partire bene fin da subito quindi già con le prime gare e poi sono una che piace essere costante quindi cercherò quello la continuità è una cosa tira l'altra se alla fine se sei costante riesci a mantenere un livello alto alla fine sei sempre lì tra i primi che ti giochi qualcosa poi ovviamente dipenderà da come andrà tutta la stagione se riuscirò a fare quello che ho in mente di fare a quel punto dipende un po dove si spostano gli obiettivi però guardo sempre con occhio di riguardo la coppa del mondo sono curioso di chiediti se c'è stata una gara dello scorso anno in cui hai pensato forse ce la posso davvero fare perché comunque dopo la gara individuale dei mondiali mancava un poche gare l'inerzia era abbastanza passata dalla tua parte in quel momento perché comunque durote era un po di difficoltà e poi aveva il pettorale giallo e poi sei stato lì quando hai avuto questo pensiero o un altro momento ma se l'hai avuto durante sì durante i mondiali sapevo che potevo farcela ovviamente non ero sicuro al cento per cento però in quel periodo stavo molto bene fisicamente avevo le percentuali al tiro molto alte non mi mancava niente solamente che non so la tensione o magari troppe aspettative mi hanno fatto perdere c'è meno fatto un brutto scherzo e mi hanno tolto la mia tranquillità che mi è caratteristica del tiro quando non sono più tranquilla iniziò essere aggressiva e purtroppo lo riporto nel mio tiro e mi fa sbagliare tanto hai fatto una dichiarazione che comunque colpito durante l'estate hai detto beh Fulcate ha vinto tante coppe del mondo in campo femminile effettivamente a parte i tempi di Forsberg che ne ha vinte tante adesso è più difficile e da un po' che non si vede ok Mekarini ne ha vinte tre però che non si vede qualcuno che domina in coppa del mondo ho detto beh a me piacerebbe vincere di più io sono ho molto apprezzato questa dichiarazione qualcun altro l'ha giudicata un po' presuntuosa ti sei pentita di averla detta oppure no no io se dico una cosa perché la penso poi ovviamente ognuno è libero di pensare che possa essere presuntuosa o che possa essere arrogante però mi è stata chiesta qual è il tuo idolo sportivo quale c'è come chi vorresti essere io ho pensato io vorrei essere una vincente ho preso ho preso come esempio un vincente quindi ho detto che voglio e vincerò sette coppe del mondo però ci provo non è che non è è lecito dirlo d'altronde posso dirti che la stessa persona che ti ha intervistato mi ha detto che fuori diciamo da microfoni Cusmina gli ha detto ma secondo me Lisa può dominare i prossimi anni in coppa del mondo se lo dice Cusmina che eri in duello con lei l'ultima coppa del mondo penso che ti faccia piacere no? no certo ma ho sentito tante belle dichiarazioni che hanno fatto su di me mi ha fatto molto piacere anche perché allora vuol dire che mi apprezzano come atleta quindi credono nel mio potenziale quindi mi ha fatto piacere parlando di coppa del mondo comunque di perché so che voi magari non vi sbilanciate molto Nettuno e Dorotea soprattutto però onestamente siamo vicinissima all'inizio di coppa del mondo è un primo test sulla neve l'avete fatto tutte quante tranne oberi quelle diciamo che sono impredicate per puntare alla coppa del mondo o essere competitive chi vedi oltre a Dorotea delle altre che può essere davvero più competitiva magari fare il salto in più Erman, Roisland, Oiberi o un'altra? ma io ho sempre detto Rosenheim e Oberg sulle altre non mi sento di dire sbilanciarmi perché non le vedo molto costanti l'Erman si è forte però non è una che è molto stabile il tiro quindi può essere un terno all'otto quelle che hanno fatto vedere molto la scorsa stagione sono la Olsbu e la Oberg e forse anche la Fialcova dal punto di vista della gestione anche delle emozioni, della gestione degli obiettivi è meglio secondo te che i mondiali quest'anno siano a febbraio rispetto invece all'anno scorso che erano così così è arrivato alla fine della coppa del mondo? si personalmente io preferisco febbraio che marzo perché fai tante gare prima di coppa del mondo e i mondiali se sono troppo in avanti devi sempre, cioè sei psicologicamente lì però è dura da arrivarci perché sono troppo in là come tempo poi più in là vai meno condizioni belle trovi perché il clima è anche più caldo e quindi è tutto un po' io preferisco sempre febbraio anche per una questione molto psicologica però è anche vero che tra virgolette nelle ultime stagioni abbiamo visto crescere in maniera esponenziale però quando c'è il grande appuntamento a febbraio, che soprattutto capita con le olimpiadi, ci sono state magari di poco perché in realtà poi avete sfiorato il podio in particolare in più di un'occasione ma cambia anche nella preparazione puntare ad un obiettivo a febbraio che a marzo? anche per quello che hai detto tu, il fatto di psicologicamente logorarti aspettando un grande evento? sì, cambia perché lo sai già da prima e quindi la preparazione slitta di un po' di settimane o un mesetto quindi quello cambia, poi psicologicamente anche perché è sempre una cosa molto lontana devi stare sul pezzo sempre, non puoi mai mollare sì, così c'è una cosa che ho sentito da Dorotea forse me l'ha detto che in realtà voi durante tutto questo periodo che state insieme comunque nei ritiri o anche durante la sezione invernale cioè di gare non è che ne parlate tanto tra voi due, è vero? sì, è vero non parliamo mai, infatti questa domanda l'anno scorso è stata fatta molte volte ma com'è possibile che voi non parlate mai che uno è prima, uno è seconda la cosa migliore per superare tensioni come queste è non parlare perché alla fine siamo compagni di stanza, compagni di vita, di allenamento comunque anche se non la fai vedere la tensione c'è, la rivalità magari anche c'è, è normale che ci sia e quindi non parlare, far finta di niente, secondo me è il modo migliore per superare tutto però parlate di qualcosa perché credo che sia inevitabile avere dei momenti in cui appunto per stemperare anche la tensione c'è qualcosa che vi accomuna nel parlare, cioè di argomenti, c'è qualcosa su cui avete la stessa sintonia o passione? ma noi siamo due caratteri molto diversi, si vede, abbiamo anche degli hobby diversi magari io guardo tutto il giorno serie tv, lei non so, può leggere o non so cosa però quando siamo tutti insieme noi siamo abituati ad andare negli appartamenti noi donne siamo tutte assieme quindi parliamo del più ed al meno, gossip, serie tv, fiction, un po' di tutto ma non c'è una cosa che vi appassiona in comune, può essere appunto una serie tv o qualcosa, un argomento che vi ha appassionato tutte e due anche se siete diverse ed è la cosa abbastanza evidente sì sì, magari se guardiamo lo stesso film o la stessa serie tv ci confrontiamo, parliamo e cose così ma non di dietro, tutto ma non di dietro ok ma il vostro rapporto, io immagino che possa essere un po' cambiato rispetto a quando è finita la scorsa stagione oppure no, perché magari in realtà le cose continuano così, d'estate sono continuate così c'è lo stesso modo di comunque rapportarsi tra di voi? sì, no, non è cambiato niente, cioè alla fine tutti gli sport uno vince, uno arriva secondo, alla fine uno ci deve arrivare perciò non è che in base a quello poi non li parli più o è successo qualcosa, no, abbiamo un rapporto normale noi siamo abituati a stare insieme, siamo abituati a allenarci insieme e quindi conviviamo così ovviamente la rivalità c'è, si vede, si percepisce come è accaduto per Dorotea, chiaramente si è visto una maggior richiesta da parte degli sponsor quindi un maggior impegno per te anche Extra Sport e anche da parte dei media sicuramente più richieste di interviste, questo ti ha tolto qualcosa dal punto di vista della preparazione o anche magari ti toglie concentrazione oppure non riesci a gestirlo bene beh sicuramente gli sponsor, come giusto che sia, ti richiedono ad eventi o shooting tutte quelle cose che comportano avere uno sponsor però sono riuscita a gestire al meglio tutto il mio tempo che hanno richiesto accompagnando anche l'allenamento quindi non ho mai perso tempo e non ho mai perso giornate che mi togliessero qualcosa dall'obiettivo insomma Tant'è che siamo a Livigno, la tua seconda casa e oltretutto trovi anche tutta questa montagna di neve che è una bella sorpresa per questo periodo, dopo l'intervista puoi andare ad allenarti Sì, è una bella sorpresa anche perché da nessuna parte c'è così tanta neve come qui e ieri sera ho fatto il passo e c'era talmente tanta neve che mi sono quasi spaventata è bello perché adesso posso prendere e andare a farmi una sciata con 20 km di piste e battute per un atleta è sempre bello quello che ti volevo chiedere è che se ci sono dei modelli che tu prendi a riferimento a cui ti ispiri o delle imprese che ti hanno colpito nello sport ultimamente sono curioso di sapere insomma se c'è qualcuno che più di altri stimi Sì, io guardo tantissimo sport e la prima persona che mi viene in mente come idolo sportivo mi viene in mente Federer che nonostante la sua età e tutto quello che ha vinto in passato da giovane adesso si è riuscito comunque alla sua età che comunque nell'attività sportiva l'età conta e in certi sport ancora di più che sia riuscito comunque a fare delle grandi cose ancora adesso e quindi mi piacerebbe riuscire a non a fare la carriera che ha fatto lui perché per una donna comunque è sempre più difficile però a togliermi delle soddisfazioni grandi Ecco però mi viene in mente questa domanda nel tuo sport ci sono due esempi diversi Dolathea che da un po' di anni che dice vuole fare la mamma e invece Makenheim che insomma resiste forse perché vuole vincere una medaglia olimpica non so se ci arriverà o se si ritira dopo questa stagione qual è delle due quella a cui ti avvicini di più diciamo perché uguale non credo però o stai nel mezzo? Sto nel mezzo, penso che sicuramente ho tanta passione per questo sport e per adesso non mi vedo a fare nient'altro che se non questo non punto a superare i 32 anni perché non ce la farei anche perché se vuoi restare a alti livelli dipende un po' dal fisico e dalla salute e arrivare sopra i 32 anni è un po' duro essere competitivi la Makenheim ci sta riuscendo bene perché comunque lei è sempre stata una forte e ha delle caratteristiche che lo permettono di fare però dai sto nel mezzo non mi ritirerò giovane e se mi ritirerò è perché c'è stato un problema o qualcos'altro però appunto comunque ha le olimpiadi in Italia C'è una cosa che mi dimenticavo tu hai fatto un po' di in tutti i format però ce n'è uno con cui sembra che ci stai ancora un po' litigando e soprattutto il rapporto non è completamente sbocciato diciamo così che è la partenza in linea come mai? Questa domanda me la sono posta molte volte non mi sono riuscita ancora a dare una risposta però è successo così anche per il format dell'individuale che non riuscivo mai a esprimermi al 100% un po' mi addormentavo durante la gara e su quello ci ho lavorato tanto e quest'anno ho portato a casa una coppa individuale che non avrei mai immaginato nella mia vita e quindi magari sarebbe di buon auspicio e quindi riesco a fare questo passo anche verso la must start che magari riesco a svoltare e a concentrarmi un po' di più su quel format Hai detto che ti addormenti in gara mi sembra strana questa cosa però visto che è stato un tema ricorrente nel scambio di battute simpatiche con Dorotea scusa tu quando dallo mi ti alleni come mai ti addormenti in gara? Mi addormento perché è una gara molto lenta è una gara che sei da solo non fai la gara sull'uomo e non fai la lotta contro il tempo perché è una gara molto lunga le mie caratteristiche sono pilate a una sprint che devo dare tutto in poco tempo e sparare più velocemente per prenderne tutti però è una gara molto veloce che non hai il tempo di pensare invece l'individuale il tiro è un po' diverso non fai magari serie che puoi rischiare di sbagliare e in pista comunque sei da solo perché parti da solo in una gara lunga non trovi quasi mai nessuno che ti... cioè non puoi prendere e partire perché comunque sono 15 km in quel senso mi addormento è stata un po' lunga grazie dell'intervista e in bocca al lupo per la stagione grazie grazie